Si terrà nel resort del Ciocco a Barga in Lucchesia il campionato mondiale Marathon Master 2021 di Mountain Bike. L'evento è in programma dal 22 al 25 settembre ed è stato presentato a Firenze nella sede della Presidenza regionale. 8 le categorie per i titoli ridati, ripartite per fasce d'età, dai 35 anni agli over 70. Emozionante ma anche molto promettente non solo per il Ciocco ma per tutta la valle, sia la Valle del Secchio che la Garfagnana. E alla fine la Toscana sta puntando tutta sul ciclismo, questo evento l'aiuterà a farsi promozione nel mondo. Vi è tutto un fascino di una Toscana che attraverso lo sport recupera la sua capacità attrattiva e il gusto dei paesaggi e degli scenari incomparabili, dei borghi, delle montagne. Se vogliamo per chi ci sta qualche giorno di tradizioni uniche come quella di Pascoli che non era toscano, non era di Barga ma che a Castelvecchio Pascoli scelse di vivere gli ultimi decenni della propria vita e di finire gli suoi giorni. Il tracciato si snoderà su 66,5 km e comprende anche una salita cronometrata con 550 metri di dislivello e una discesa cronometrata di 3,2 km. In programma anche un'erta sul Piave di un chilometro e mezzo.